buongiorno buongiorno primo contenuto di giornata che non è proprio da un contenuto sportivo naturalmente di dominio pubblico sta storia di matteo bobbi e riguardo sto parlando di formula 1 di matteo bobbi e davide valsecchi premetto a me davide valsecchi sta simpaticissimo trovo questo suo connubio con la masoline veramente azzeccatissimo troppo bello e mi piacciono anche le sue goliardate diciamo io voi sapete come è la questione per chi non lo sapesse descrivo la scena c'era matteo bobbi in collegamento con valsecchi e la masoline dietro valsecchi e la masoline c'era un paio di ragazze ben messe sottolineo dice bobbi a valsecchi volevo segnalarti che dietro di te c'è un pacchetto di aggiornamenti niente male la roba del genere anche valsecchi si gira dice sì vabbè ma non posso testare la roba del genere insomma una battuta se vogliamo anche simpatica goliardica da caserma la stessa masoline non mi è parsa molto scandalizzata sì ha fatto la mossa ma la stessa masoline una ragazza è tipo la leotta la masoline non dà peso a queste cose per me è un bel carattere però attenzione io di fondo sono contrario a demonizzare queste situazioni eccetera 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 però attenzione dal momento in cui tu sei un dipendente sky tu ne accetti i regolamenti il dress code un codice deontologico un codice comportamentale dai e da questo punto di vista sky è coerente è molto coerente da questo punto di vista basti ricordare il caso del tatuaggio di di canio che costretto a mettersi ma camicie a maniche lunghe lo stesso comportamento di adani adani è stato messo alla porta per la celeberima questione di allegri ma vedete sky ha un suo alle sue regole dal momento in cui tu ne sei dipendente le accetti implicitamente quindi non mi sento di gettare la croce addosso a sky al suo codice comportamentale discutibile pienamente d'accordo ma dal momento in cui tu tu ci firmi un contratto ne accetti questo regolamento e che francamente a me mi trova d'accordo a me trova d'accordo perché loro sono coerenti loro non amano questi accessi non amano questi accessi dopodiché per me viva tutta la vita viva valsecchi viva matteo bobbi viva la masolini tutta la vita per quel che mi riguarda però dal momento in cui tu accetti un contratto con sky ne devi sottostare alle regole del resto tu non vai neanche in bermuda in chiesa tu sai che dal momento in cui entri in una chiesa tu devi devi vestirti decentemente altrimenti il parroco avrebbe giustamente da dire io poi avendoci a che fare con le chiese per lavoro io ho visto io ho visto certe scene di certe signorine vestite in modo talmente volgare veramente che era brutto da vedere da vedersi anche per me figuriamoci per un parroco poi stessa cosa in parlamento in parlamento c'è l'obbligo di giacca cravate eccetera eccetera o come in discoteca c'è l'obbligo di andare a coppia ricordate per noi boomer signori noi possiamo condividerli o meno ma quando questi hanno dei loro regolamenti non puoi fare il cazzo che ti pare d'altronde non puoi scorreggiare in un ufficio pubblico per quanto tu puoi essere anche il migliore impiegato del mondo non puoi mettersi a fare una gara di ruti in ufficio e diciamo che è assimilabile questa battutina anche divertente se vogliamo di di bobby e valsecchi loro in pratica salteranno il weekend di imola mi dispiace però ragazzi sky da questo punto di vista è molto coerente poi si può si può la loro idea si può anche contestare si può anche definirla come bacchettona politically correct non lo so come cazzo volete ma dal momento in cui loro hanno questo regolamento e tu ci lavori ci vai del resto io come io sono giornalista no pubblicista da poco se un domani mi chiamasse il corriere della sera o repubblica io so che il corriere e repubblica hanno una determinata linea editoriale cioè non posso pretendere di andare a scrivere su repubblica un articolo dove che so faccio l'elogio di berlusconi della meloni o peggio ancora rivaluto la carta del lavoro eccetera le riforme cioè le bonifiche delle paludi pontine di mussolini io so che la repubblica è un giornale con orientamento di centro-sinistra a bozzo a bozzo magari faccio il finto neutrale edulco i miei pezzi ma è chiaro che non vado contro la linea editoriale di chi mi ha assunto questo è chiaro ed evidente quindi a malincuore purtroppo devo dare ragione a sky che da questo punto di vista chiaramente è coerente è coerente quando adani scazza con allegri e li rompe i coglioni sono frasi fuori senno prima dello scazzo di allegri eccetera eccetera il signor cares ha fatto bene a metterla alla porta adani che che ne dicano i suoi aidi che che ne dicano i suoi aidi poi per me adani resta al netto delle sue fisse e delle sue questioni personali con chi sappiamo per me adani era e resta un commentatore molto competente che sarebbe anche piacevole da ascoltare se non fosse per certe sue cose però il regolamento di sky prevede questo hanno tutti attieni al loro regolamento poche chiacchiere poche chiacchiere lo dico tu in casa mia rispetti le mie regole poi fuori da casa mia puoi anche fare gare di rutti di scoregge dire tutte le battute che vuoi io non lo chiamo neanche sessismo io la chiamo inopportunità una roba inopportuna ok perché dai chi di noi non ha mai detto ma quant'è figa quella lì chi di noi non l'ha detto dai come le donne dicono quanto è figo quello lì e qua mi dicono la canzone di pippo frango figo che figo perché alla mia età è il mondo però diciamo in determinate aziende loro hanno un codice di comportamento hanno le loro regole per quanto non ci piacciono vanno vanno rispettate se è vero che ci vogliamo lavorare dentro questa azienda se poi noi vogliamo dettare i regolamenti a determinate imprese allora non ci sto a malincuore devo dare ragione a sky purtroppo ditemi ciò che ne pensate iscrivetevi al canale